E ora giochiamo a tempo run, vediamo, vai, preso, vai, vediamo se lo riusciamo a capire, vai, 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 sinistra, giù, sinistra, no, non la lascia, e vai, skip, run, e che? Perciò nonứa, non ti ferma, non ci ferma, non c'è 온 pazza, già qui, tu mi ritorna a me, non lo so, non lomaking,ゴli трав่ physician, asco da rifiutati, ok, fatto, no, 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 salta dai no salta salta ma sto coso butti i mostri da non sai quel canto giù ebbè giù 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 a tu a che? a non me la ce la fai yoohoo vai vai nooo ti dobbiamo sbattere, poiché mi sei che diamine destra salta destra giù destra no non ce l'ho visto mannaggia schifo vanno vai destra salta sinistra sinistra no mannaggia fa troppo vero x x x x x x x